Va bene, sono andato a mangiare, bello, sono andato a mangiare, solo che fuori oggi fa un caldo boia, è meglio stare il pomeriggio, nelle ore più calde, stare al fresco e poi stasera si esce. Stella non ho un cazzo da fare, voglio fare video, non ti va? Non mi guardare, non vuoi? Non mi guardare, come faceva quell'altro pazzo e te lo ripeto un'altra volta, non mi devi guardare. No, niente ragazzi, io dico, questo video non è sportivo, questo video, siccome che io giro oggi, giro specialmente al sud, io dico invece di ammassarvi tutti in quella riviera adriatica che è anche bella, però a me non è mai piaciuta, troppa gente, invece di venite in Sardegna, fate un giretto, portatevi il panino al sacco, che cazzo me ne frega, ma vedere i posti o in Calabria, in Puglia, in Basilicata, in Molise, ma voi l'avete visto il Molise? Pazzesco, l'Abruzzo, l'avete visto l'Abruzzo? Pazzesco, e le Marche l'avete visto? Sopra Sirolo, c'è un posticino sopra Sirolo che si mangia, a Sirolo, sopra proprio si vede tutto il mare Sirolo, non avete visto un cazzo voi? Oppure in Toscana verso l'Alta Versilia, non nei posti clou, perché i posti clou li abbiamo visti una volta, due, ma dopo, hai capito? Troppa gente, troppa gente, oppure in Sardegna, andate verso Oristano, dove il mare è freddo, il mare è più fresco, andate in una spiaggetta chiamata Puzzuido, ci siete solo voi, potete stare nudi, Cioè, hai capito? Dovete girare, dovete imparare a conoscere il vostro paese, vabbè, della Sicilia non ne parliamo, c'è un posticino proprio a Marzara del Vallo, è quasi Africa proprio, ho mangiato il miglior pesce in assoluto, o Cefalù, sei andato a Cefalù? Cefalù, a Cefalù fanno delle sculture, fanno dei piattoni di, ma disegnati a mano, che ragazzi, Quindi, hai capito cosa ti dice il nonno? Vai, vai, ti piace la montagna? Trentino, se vuoi la montagna bella, Trentino, Trentino, Trentino è bellissimo, Trentino è bellissimo, capito? Però se vuoi pure la montagna bella, in Calabria c'è il Pollino, e puoi fare anche rafting, e poi c'è la Sila, è tutta verde, tutti i pini, e poi, o in Basilicata, c'è la cordiera del Pollino, ragazzi, è una cosa bellissima, o in Sardegna, a Gianargento, a Gianargento sei andato mai? No, e tu non sei andato da nessuna parte, sacco di melma, no, tu sei andato in quella spiaggetta a Carbonia, sei andato in quella spiaggetta, Lei hai visto le vecchie miniere del Sulcis? Lei hai visto? No, è un paesaggio West, è un paesaggio West, a Villa Simius sei stato mai? A Villa Simius, dove c'è quella statalina che entra dentro al paese e sembra che ti butti nell'acqua dritto, dove fanno un gelato fantasma, sei stato tu mai questo? No, no, tu non sei stato, in Gallura sei stato mai? No, a Bono sei stato tu, ma è Bono, è un paesotto dentro Navale, Bono, a Bono, dove fanno il porcellino più buono del mondo, sei stato, no, no, tu non ci sei stato, In Corsica sei stato tu, Stella? No, in Corsica non ci sei stato, perché ti devi muovere da quella cucinetta lì in Stella? Hai capito? No, io vado alle Maldive, ma che cazzo me ne frega delle Maldive, la Sardegna ha forse un migliaio di spiagge tipiche, c'è quella rossa, c'è quella rosa, c'è quella bianca, c'è quella nera, c'è quella blu, c'è quella nero, azzurra, c'è quella bianconera pure, Quindi dovete girare, Stella, tu dici, ma ho capito, ma hai i soldi, cerca di metterli via, ma non fermarti in quei maretti lì, tanta gente, li stretti, come quelle cazzo di formichine operaie, no, buttati sull'autostrada, buttati sull'autostrada, stai scherzando, O in ciocciaria sei mai stato, che sta facendo? Sta stato tutto bello? In ciocciaria sei stato? C'è, ma chi cazzo? A sora ci sei stato mai? Sora, mon bico, in quelli... Stella, dai, ma dai, fidati del nonno, fidati del nonno! No, veramente sono teso per la prima partita, perché, meno male che non, che... La prima non voglio guardare, anche se potevo, non la guardavo, uscivo, non lo so, la prima mi mette male, poi ho comprato un liquidino... Allora, liquidizia con delle note di caffè, liquidizia, note di caffè, e poi c'è qualche altra cosa, c'è qualche altra cosa, qualche altra nota, me lo deve dire a sto perla cosa ci ha messo dentro, me lo deve dire, me lo devo... Ciao!